Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, cominciamo subito con la cronaca, apriamo con un incidente mortale a Borgo, alla collina del comune di Castel San Nicolò, un 77enne è stato schiacciato da un albero mentre lo stava tagliando e sembra per conto di un amico quando è stato travolto dal fusto dello stesso, è successo dopo le 10 di stamattina i sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asle Toscana Sud-Est sono intervenuti nella località casentinese con un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Stia, presente anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bibbiena, nonostante siano state attivate tutte le manovre rianimatorie, l'anziano non ce l'ha fatta sulla tragedia, stanno svolgendo ulteriori indagini i militari dell'arma. Parliamo di un altro incidente, questa volta in bicicletta, il vice sindaco di Castiglione Fiorentino Dedis Milighetti oggi poco prima delle 13 è caduto da Unibike nel centro storico della cittadina della Valdichiana in via Madonna del Rivaio. Milighetti avrebbe perso il controllo della due ruote cadendo in avanti, riportando escoriazioni e un trauma cranico sul posto l'emergenza urgenza dell'Asle Toscana Sud-Est, l'ambulanza della misericordia di Castiglione Fiorentino e l'elisoccorso Pegaso che ha provveduto al trasferimento del vice sindaco all'ospedale di Santa Maria Lescotte di Siena in codice giallo. Passiamo a notizie decisamente più positive perché la Grey Bull McLaren annuncia ufficialmente di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% della FIMER. Il fondo Grey Bull McLaren ha annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante irrevocabile con il Consiglio di amministrazione e gli azionisti di FIMER per l'acquisizione del pieno controllo e della proprietà dell'azienda. È quanto si legge in una nota ufficiale arrivata proprio da parte del fondo. Grey Bull Capital acquisirà il 100% di FIMER a fronte di un investimento di 50 milioni di euro orientato a sostenere il rilancio dell'azienda. Il Consiglio di amministrazione ha scelto McLaren Applied in considerazione delle importanti sinergie strategiche e industriali e del solido commitment finanziario dimostrato nel corso delle trattative. In più, un particolare, l'investimento di McLaren Applied prevede un conferimento iniziale di 5 milioni di euro immediatamente dopo l'autorizzazione da parte del Tribunale di Milano. Paura per una fuga di gas. Questa mattina all'impianto antincendio dell'archivio elettorale della Prefettura di Arezzo, poco dopo le ore 7 del mattino, è arrivata una chiamata al 115 per una sospetta fuga di gas da parte del personale delle polizie. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Dall'impianto antincendio, in effetti, è stata rilevata una fuoriuscita di azoto, un gas inerte che viene rilasciato dall'impianto in caso di roghi, perché va a sostituire l'ossigeno presente nelle stanze, impedendo così alle fiamme di alimentarsi e consentendo di fatto lo spegnimento dell'incendio. L'incidente, fortunatamente senza conseguenze, è simile a quello avvenuto nel settembre del 2018 all'archivio di Stato di Arezzo, dove dall'impianto antincendio, però invece che a zoto fuoriuscì il gas Argon che causò la morte di due impiegati. Alcuni bambini sono diventati eroi perché si sono accorti di due uomini incappucciati e hanno sventato un furto. È successo ieri, poco dopo le 22, nelle campagne tra albergo e Cigiano. Sentiamo. Vedono due persone incappucciate a girarsi nell'oliveto e danno l'allarme ai genitori. Così un gruppo di bambini ha sventato un furto ieri sera tra albergo e Cigiano, nel comune di Civitella in Valdichiana. È successo poco dopo le 22. Sarebbero state due le persone incappucciate che hanno tentato il furto. I bambini stavano giocando nel giardino dove si stava svolgendo una festa di compleanno. Alla vista di uno dei due uomini, un paio di bimbi di appena 10 anni, ha subito allertato i genitori che si sono accorti di un'auto scura che si stava allontanando. La stessa si è saprò dopo e era stata segnalata anche da un metronotte nella zona di Monte San Savino. Una Mercedes scura con targa straniera e così i piccoli hanno praticamente sventato un furto. Il caso è stato segnalato ai carabinieri. Sono state denunciate in stato di libertà 4 persone per il reato di truffa in concorso da parte dei carabinieri di Cortone in seguito a una querela da parte di un imprenditore che dopo aver visionato su un sito per vendite online un telefono, aveva acquistato lo smartphone per la cifra di 250 euro, questo apparecchio senza mai riceverlo. Il codice IBAN del conto corrente, qui era stato operato il bonifico, gli era stato indicato dal venditore. Le indagini hanno permesso di identificare una donna conosciuta alle forze dell'ordine e intestataria del conto su cui era confluito il provento della truffa. L'importo era stato poi distratto facendolo confluire in altre carte di credito intestate ad altri soggetti indagati. Uno dei denunciati inoltre è risultato essere intestatario fittizio di numerosi recapiti telefonici utilizzati per la commissione di analoghi reati in campo internazionale. Il governo ha cominciato a distribuire la carta dedicata a te, una carta di credito prepagata per l'acquisto di beni alimentari e per fronteggiare l'inflazione, ma le associazioni di categoria parlano di semplice elemosina. L'inflazione in Italia non molla la presa e per dare un aiuto alle famiglie italiane il governo ha distribuito nei mesi scorsi anche nell'aretino e solo a coloro che ne avevano diritto su base Isee la carta dedicata a te. Si tratta di una prepagata consegnata da poste italiane che contiene 382,50 euro per l'acquisto solo di beni alimentari. Un bonus erogato una sola volta e in molti sostengono una vera elemosina, ma in autunno potrebbe essere prevista la redistribuzione di eventuali fondi residui. È una misura assolutamente insufficiente, è un'elemosina. Noi vediamo tutti i giorni, non da settembre, da lunedì prossimo, noi saremo lì sul pezzo sempre e comunque, noi siamo sempre stati disponibili, abbiamo una mail, chiunque sia in necessità ci può contattare in qualsiasi momento, ma noi saremo operativi già da lunedì. È insufficiente, non si può vivere, non si compra neppure un chielo di pane e noi ripetiamo, non è possibile che gli ultimi paghino il prezzo per tutti, chi più ha deve mettere a disposizione della comunità. E siamo alla fine del mese di agosto e come di consueto parte il concorso polifonico internazionale dal 22 al 26, infatti torna la settimana del concorso polifonico Guido D'Arezzo, giunto alla sua settantunesima edizione, sei giorni di concerti, concorsi, workshop e approfondimenti sul mondo della coralità a livello internazionale. Anche quest'anno un rinnovato interesse nei confronti della manifestazione attestato dalla presenza di ben 13 cori in concorso dalla Spagna, Indonesia, Olanda, Filippine, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Svezia, Irlanda e naturalmente Italia. Si apre domani 22 agosto, quindi martedì, dalle ore 9 presso la chiesa di San Michele con il masterclass del maestro Ambro Scopi con la collaborazione del coro KGBL della Slovenia per la scuola dei direttori di coro della Fondazione Guido D'Arezzo. Sabato 26 agosto sarà l'ultimo giorno della manifestazione con il premio Guido D'Arezzo presso il Caurum Hall Auditorium Guido D'Arezzo e la chiusura alle ore 19 con la cerimonia delle premiazioni. Rimaniamo nell'ambito della cultura, in questo caso quella antiquaria perché all'inizio del secolo scorso serviva per segnalare acusticamente la presenza di una nave nelle vicinanze in caso di scarsa visibilità. Si tratta di un antico sistema di sirena manuale, un pezzo unico che si può ammirare però visitando il museo dei mezzi di comunicazione. Sentiamo. Un segnalatore acustico utilizzato in mare in presenza di nebbia o di un'altra nave fino agli anni 30-40 del Novecento letteralmente per salvare le vite a bordo. Questo strumento che io ho trovato con degli amici della fiera antiquaria che me l'hanno portato è praticamente un importante reperto che veniva utilizzato in marina per la conoscenza della presenza delle navi quando c'era la nebbia fitta sia in alto mare che in basso che lungo le coste e che praticamente questa salvava le vite umane. E' l'ultima novità arrivata al Mumec di Arezzo, ammirabile dunque nelle sale del Museo Aretino. Ogni marinaio che veniva incaricato di fare questo servizio di suonare aveva l'obbligo di suonarla 5 secondi ogni 90 secondi e quindi c'era un regolamento che poi era più fitto secondo la nebbia, secondo le cose e questo senso dell'acustica che era l'elemento di conoscenza della vicinanza di un altro mezzo diciamo nautico viene intanto dall'antichità diciamo così a voce che urlavano proprio per impedire l'affondamento della propria nave e è durato fino agli anni 30-40 del secolo passato fin tanto che non è arrivata poi la telecomunicazione quella che noi siamo forti diciamo così nella loro espressione storica con il wireless che a quel punto c'erano i sistemi radar, i sistemi diciamo così di conduzione delle microonde che viaggiavano nello spazio che andavano a finire nei ricevitori, nei trasmettitori di ciascuna di questi navi quindi ecco che queste sono andate in disuso e oggi è difficilissimo trovarle perché anche i disarmi di queste navi che avevano questa, oramai sono finite da 50 anni insomma. Rimanendo in tema Cortona Antiquaria si arricchisce fino al 3 settembre delle opere pittoriche della scuola dei Macchiaioli. Grazie a Settimelli. Beh questo appunto è un'opera di Renato Natali e importante anche perché raffigura il porto di Livorno quindi appunto i Macchiaioli raffiguravano momenti o paesaggi della vita comune di tutti i giorni e il loro aspetto particolare come è appunto anche nell'impressionismo francese è quello di dipingere a grandi linee con dei colori abbastanza evidenti ma sempre non pienamente definito come se si guardasse un'immagine ad occhi socchiusi. Livorno l'eredità della pittura Macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia è una collaterale legata a Cortona Antiquaria 2023 che andrà avanti fino al 3 settembre nella città etrusca. Grazie a Leo Galleris sono in visione per la prima volta delle opere che fanno parte anche di collezioni private ma che soprattutto permetteranno uno studio ancora più approfondito di alcuni aspetti appunto di questo movimento artistico e Cortona è sempre un passo avanti per queste modalità di esposizione proprio perché vuole essere un po' il punto di riferimento non solo del territorio ma proprio a livello nazionale. La mostra si concentra su un particolare momento della storia dell'arte italiana dell'Ottocento la più tarda fase evolutiva della pittura di macchia quando negli ultimi decenni del secolo l'eredità dei vecchi macchiaioli si trasforma e trova una nuova identità nelle ricerche di alcuni giovani pittori cresciuti nella venerazione dei maestri ma intenzionati a modificarne radicalmente le istanze e i modi. Credo che soprattutto da un punto di vista artistico forse sia i macchiaioli che i post-macchiaioli abbiano avuto la sfortuna di nascere in Italia se fossero nati e sviluppati a Parigi avrebbero probabilmente molta più valore e soprattutto anche molta più critica dal punto di vista della storia dell'arte. E sono questi gli ultimi giorni per poter ammirare la mostra ad Anghiari dedicata agli intellettuali Federigo Nomi e Girolamo Maggi per il progetto Uffizi Diffusi. Opere, manoscritti e stampe saranno visitabili fino al 17 settembre. Sentiamo. Inauguriamo la mostra dedicata a due grandi anghieresi, due ingegneri, due intellettuali del passato che avevano un ruolo molto importante tra cui chi ha inventato una sorta di dolly precursore del drone ma umano per poter meglio spiare il nemico durante la guerra. Un vero e proprio itinerario tra le corti dei medici a Venezia dove Nomi e Maggi vissero e lavorarono. Un vero e proprio straordinario modo per tirare fuori dalla polvere la storia di due personaggi che sono stati al centro dello sviluppo del pensiero rispettivamente nel Cinquecento e nel Seicento che sono Girolamo Maggi e Federigo Nomi due personalità della cultura del tempo che hanno veramente reso grande questo angolo di Toscana. Opere e manoscritte, stampe provenienti da importanti istituzioni culturali e dipinti che arrivano direttamente dagli uffizi. Tutti questi segreti per il grande pubblico ma ben noti tra i specialisti e ora arricchiti di ulteriori notizie si possono imparare, vedere, godere nel Museo della Battaglia d'Angliari. La mostra sarà visitabile fino al 17 settembre. Le opere delle gallerie degli uffizi entrano a contatto con i territori dunque con la provincia, quella una volta si chiamava il contatto dunque si dà la possibilità a opere importanti di ritornare ad avere un legame con i territori. ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio e i musei minori che lo costellano attraverso prestiti importanti dalle gallerie che ripercorrono la storia di questi territori e i loro collegamenti con i principali artisti ed esperienze artistiche storiche che li hanno contraddistinti. E passiamo allo sport con l'Arezzo che al completo, in attesa del debutto in C volge lo sguardo anche verso il cielo recandosi in pellegrinaggio ad Assisi l'iniziativa voluta dal presidente Guglielmo Manzo porta tutto lo staff da San Francesco stamattina gli Amaranto si sono recati in visita alla Basilica dove sono conservate le spoglie del Santo mispiandosi alle centinaia di fedeli che ogni giorno follano quei luoghi era presente la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori devoto di padre Pio Manzo aveva inizialmente pensato a un viaggio fino a San Giovanni Rotondo in Puglia poi però per motivi logistici è stata scelta Assisi oggi pomeriggio invece la squadra ha ripreso gli allenamenti a Rigutino domani doppia seduta, mercoledì lavoro mattutino e poi di pomeriggio l'amichevole alle comunali contro l'Aglianese alle ore 17 giovedì e venerdì sono in programma una sessione al giorno mentre sabato alle 17 è in calendario l'ultimo impegno del precampionato a Cisterna di Latina sempre alle ore 17 il primo settembre alle 20.45 calcio d'inizio per la prima di campionato a Rimini come ovviamente già sapete grazie per averci seguito questa era l'ultima notizia a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.